Non si arrestano le somministrazioni di siero vaccinale anti-covid-19 in Veneto, raggiunta quota 4.784.001, più 42.845 inoculazioni nelle ultime ore. Le prime dosi somministrate sono 2.700.041 e tra i residenti hanno completato il ciclo vaccinale 2.083.959 persone. Domani, come ormai consuetudine, verranno letti i dati sull'incidenza del virus nelle regioni italiane, è di questi giorni la voce infondata sul possibile declassamento del Veneto in zona gialla, ma i dati parlano chiaro, non c'è nessun pericolo che al momento questo possa accadere. Il dato dell'incidenza che ci sarà domani è di 26 su 100.000, quindi un dato abbondantemente sotto i 50 che è quello che prevede il passaggio in area gialla, questo però ci deve sicuramente far riflettere e dire che non possiamo permettersi di abbassare la guardia, perché abbiamo capito che il virus ancora circola, abbiamo capito che alcune varianti sono molto, ma molto più diffusive, in particolar modo la variante Delta. Anche nel Padovano procede la campagna vaccinale, raggiunta quota 938.347 sieri somministrati, più 7.685 nelle ultime ore. Buoni segnali arrivano anche dalla pressione ospedaliera. Da tre giorni non abbiamo nuovi ricoveri in ospedale, attualmente siamo quindi con nove persone ricoverate, però è cambiata un po' la loro dislocazione, nel senso che abbiamo sette persone nel reparto di malattie infettive in area medica e due in terapia intensiva, nel senso che una persona che era ricoverata in area medica in malattia infettiva è passata in terapia intensiva per l'aggravarsi del quadro.